Buongiorno a tutti, benvenuti al Maniglio Science Festival, vi do proprio il vero benvenuto perché questa è la prima sessione di questa giornata del secondo giorno del Maniglio Science Festival. Iniziamo subito col primo intervento, i tempi sono veramente veloci quindi cercheremo di stare il più possibile nel programma e introduco il primo relatore, il dottor Angelo Camerlenghi che è nato a Bergamo, è un geologo con un master in geological oceanography costituito negli Stati Uniti d'America nell'88, è un dottore di ricerca in scienze della terra nel 1991, Camerlenghi si occupa di geologia dei fondali oceanici nel Mediterraneo e nelle aree polari, Antartide ed Artico, è ricercatore presso l'OGS di Trieste dal 92 e dal 2004 al 2011 è anche professore di ricerca presso Icrea a Barcellona e nel 2012 di nuovo a Trieste, qui dirige la sezione di ricerca geofisica dell'OGS e insegna geologia marina all'università. Ci terrà un intervento dal titolo la deposizione del sale al fondo del Mediterraneo, quindi scopriremo alcune nozioni importantissime su un cristallo semplice ma al suo tempo affascinante quale il cloruro di sodio e altri sali in particolare. Voglio un applauso per il dottor Camerlenghi al quale passo la parola. Grazie, mi sentite? Sì, grazie. Voglio ringraziare gli organizzatori per avermi fatto scoprire questo bellissimo posto e questa bellissima iniziativa e il pubblico che il sabato mattina pensa di venire ad ascoltare qualcuno che parla di scienza, penso che l'applauso andrebbe fatto al pubblico. Questa mezz'oretta circa che occuperemo assieme spero che sia interessante e vorrei condurvi in un viaggio della conoscenza che abbiamo di un evento geologico ma non solo, climatico, che è avvenuto vicino a noi nel Mediterraneo, che ha portato alla deposizione di enormi quantità di questa pietra che vedete, poi se volete vederla da vicino potete venire dopo, è Salgemma, quindi cloruro di sodio. Sì, è proprio quella. Viene dalle miniere di Sicilia, dopo ve lo dico, ed è la storia di questa pietra. Proprio questa, nel senso di come si è formata questa, perché viene proprio dai depositi di cui parliamo. Per incominciare vorrei farvi ascoltare e vedere per due minuti, chiedendo se si possono abbassare le luci per un secondo, il primo film. Una cosa che non è scientifica, però viene da un nostro progetto scientifico di come chi non fa ricerca si occupa di arte e comunicazione, vede un cristallo. adesso Alla prossima 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 Ho meglio un microcosmo dei cristalli. Questo è il viaggio dentro quella roccia, se noi ci facessimo piccoli micrometrici. Questa pietra rappresenta 285 circa metri cubi di mare mediterraneo di 5 milioni di anni fa senza l'acqua, l'acqua è evaporata, è entrata nell'atmosfera quindi probabilmente quelle molecole d'acqua sono ancora, anzi senza probabilmente, sono sicuramente nel ciclo idrologico, potrebbero essere congelate in Artico nella calotta della Groenlandia, potrebbero essere nei nostri fiumi in una falda o ritornate al mare. Perché sono 250 metri cubi di acqua? Perché sappiamo la concentrazione media dell'acqua marina e sappiamo che per ottenere circa 10 chili di sale dobbiamo evaporare circa 285 metri cubi di salgemma. Ed è un salgemma, roccia, viene da questa miniera di Real Monte dove Italcali produce i sali, in particolare questo viene usato per scopi industriali, praticamente per salare le strade però quello più puro poi ce lo troviamo anche sulla tavola. Il sale che è un elemento comunissimo veniva anche prodotto e viene tuttora prodotto anche se sempre di meno per motivi di costi di lavorazione, nelle saline artificiali, questa è quella di Pirano che vi invito ad andare a visitare in luglio-agosto quando c'è la raccolta del sale, dove cosa si fa? Si porta dell'acqua che piano piano entra in delle vasche, i sali che non si vogliono precipitano prima e dopo e con dei metodi empirici i lavoratori capiscono quando precipita il salgemma, il fior di sale che è quello più fino e il sale grosso per la pasta. Per la pasta, per usi di cucina. Il sale sappiamo un'importanza straordinaria nella storia della nostra società, da sempre l'uomo ha capito che con il sale si potevano conservare gli alimenti, le miniere di sale, quindi prima di coltivarlo nelle saline, nelle miniere venivano scoperte, per esempio quelle di Salisburgo sono state scoperte dai celti che per salare e conservare il merluzzo su cui si basava la loro economia andavano in giro per l'Europa a trovare questi giacimenti. Quindi un'importanza fondamentale per il sale ci sono combattute guerre, Venezia deve la sua potenza, perlomeno nella parte adriatica del Mediterraneo, dal controllo del mercato del sale, controllava tutte le saline del Mediterraneo. Il salario sapete che viene da sale, si pagava il sale, del paesino dell'Alta Valsesia, lo dico per chi frequenta la Valsesia, tuttora quando c'è un funerale, a chi partecipa al funerale la famiglia regala un chilo di sale perché anche in cima alle Alpi, lontano dalle miniere, dal Mediterraneo, avere un chilo di sale era una fortuna per poter poi conservare gli alimenti. Quindi il sale è fondamentale importanza nella nostra società, molto più di quello che si pensa, minerale semplicissimo, però la deposizione del sale ha una storia molto complessa e secondo noi che studiamo la storia della terra affascinante. Non ho commentato questa diapositiva dove volevo dire che quello che ha ridotto enormemente l'importanza sociale del sale è stato la tecnologia delle latte. Adesso si conserva il cibo mettendolo nelle lattine, non più sotto sale o non più tanto sotto sale. Quindi diciamo che quando è incominciata l'industrializzazione, dalla salatura delle acciughe è venuta la conservazione in lattina. Allora, in quei sali che contiene l'acqua marina, che ha una concentrazione del 35 per mille di sali generali, cioè su un litro d'acqua ci sono 35 grammi di sale, ce ne sono sei ioni che sono cloro, sodio, magnesio, l'ione solfato, calcio e potassio, che sono il 99% e hanno tra l'altro un mistero. La loro relazione, uno rispetto all'altro in quantità, è costante ovunque in tutti i mari, anche se varia la salinità. Tanto che noi misuriamo il cloro e dal cloro calcoliamo gli altri, cioè non si fa una misura della salinità per evaporazione, basta misurare con la conducibilità elettrica la clorinità e da lì fare un calcolo. Se uno evapora una soluzione con quei sei ioni, ottiene inesorabilmente una precipitazione sequenziale di minerali, che sono prima il carbonato di calcio, vedete che c'è l'ione carbonato, diciamo che c'è disciolto il calcio, e il magnesio che dà la dolomite, che però viene mediata dai microbi, non deposita mai inorganicamente la dolomite, quella delle nostre montagne, intendo. Poi si deposita il gesso, il solfato di calcio, vi ricordate, poi il cloruro di sodio, questo, sodio e cloro, e alla fine compare il potassio, che era tra questi, come cloruro di potassio, che sono i sali cosiddetti amari, quelli che hanno degli usi industriali ma non di consumo. Quindi noi possiamo avere questa sequenza di precipitazione sia in 10 cm d'acqua nelle saline, come a Pirano, oppure anche in un oceano, quando un oceano per cause geologiche evapora, o il bilancio idrologico è tale che c'è più acqua che esce per evaporazione di quanta ne entra, per rapporto fluviale o precipitazioni, o per scambio con l'oceano globale. Allora, quando può succedere questo? All'inizio e alla fine della storia di un oceano. Un oceano inizia la sua vita per rottura di un continente. Qui vi metto la rift valley del lago Tanganyika in Africa, perché è un oceano primordiale. È ancora un lago, però diventerà un oceano. Uno ha una placca continentale, da sotto c'è una risalita di mantello, si ha un rigonfiamento della placca, una rottura, un'apertura e uno sprofondamento. All'interno i vulcani generano crosta oceanica. Non appena questa depressione entra in contatto con l'oceano globale, viene invasa dall'acqua marina e può essere, non sempre, che entri meno acqua di quanto ne evapora e quindi quest'acqua marina incomincia a depositare dei sali. Questo mare va in saturazione per calcite, poi gesso e salgemma. Se noi guardiamo i depositi di sale, che vengono chiamati giganti salini in giro per la terra, li vedete qua in colore. I più vecchi sono quelli verdi, paleozoici, quindi sono vecchi oceani ormai inglobati in catene montuose lontani dall'oceano, come in Asia o nel Nord America, in queste zone o in Australia, i vecchi cratoni. Quelli un pochino più recenti del mesozoico hanno una disposizione ancora legata a un oceano. Voi sapete che l'Africa e l'America erano assieme, li potete avvicinare e la geografia attuale è ancora abbastanza simile. Perché troviamo il sale qui in Angola, in Brasile, nel Golfo del Messico, Nova Scozia e sul margine iberico dell'Africa? Perché quando i due continenti erano vicini e c'era questa striscia di lago che poi è diventato un oceano primordiale, come il lago Tanganyika, all'inizio entrava acqua marina, evaporava e ha lasciato ingenti spessori di sale. Mesozoico vuol dire siamo nel Cretacico, quindi centinaia di milioni di anni fa. Noi nel Mediterraneo, in giallo e un po' nel Mar Rosso, abbiamo il diposito gigante salino più giovane del globo. E' del Cenozoico, che sono gli ultimi 60 milioni, ma non solo, è alla fine del Cenozoico, cioè di solo 5 milioni di anni fa. Quindi noi lo stiamo studiando proprio perché essendo così giovane è ancora intatto, quasi pristino geologicamente, e riusciamo a vedere delle cose che altrove non si vedono. Poi vi mostrerò in dettaglio. Il sal, i sal in genere, il sal gemma, cioè questo in particolare, anche se è una roccia dura, pesante, poi potete venire, si rompe dando una martellata, però ha una caratteristica simile a quella del ghiaccio, che se lo sforzo è applicato lentamente, quindi una martellata è uno sforzo rapido, se lo sforzo è lento questa non si rompe ma si deforma plasticamente. Ha una densità mediamente bassa rispetto alle altre rocce, per cui quando viene seppellita, questa è una riproduzione grafica del sottosuolo di una zona del Golfo del Messico, credo che sia, incomincia a risalire e crea queste specie di funghi sotterranei, hanno un'altezza di, può essere 2, 3, 4 chilometri e delle dimensioni di qualche chilometro, fino a raggiungere la superficie. Sono come delle bolle di roccia che nei milioni di anni rompono le rocce sovrastanti e tendono ad arrivare in superficie, tanto che le troviamo in superficie, che la superficie sia esposta sulla terra o sotto il mare. Per esempio, se fate un giro su Google Earth, chi ha pratica, è interessante, andate a vedere i monti dello Zagros in Iran e avvicinandovi, andando a curiosare, in queste grosse strutture che sono delle pieghe della crosta terrestre, affiorano delle formazioni chiare, sembrano dei, adesso diciamo così, dei brufoli, enormi brufoli. Questo è un duomo salino che ha fatto irruzione attraverso tutta la serie sedimentaria, è arrivato in superficie e poi in superficie l'acqua lo dilava e creano delle formazioni, le vedete qui, addirittura vengono chiamati salt glacier, cioè ghiacciai di sale, perché fluiscono proprio come il ghiaccio, ma sono fatti di sale. Zone interessantissime dove si vede proprio la terra in azione. Ma tutto questo succede anche sotto il mare, se noi andiamo, vi ricordate il Golfo del Messico, dove si vedeva uno dei giganti salini del Mesozoico, se vediamo la topografia del Golfo del Messico, qui c'è il Mississippi, quindi New Orleans, questa topografia tutta ha gibboni, depressioni, che assomiglia un po' a quella dei monti dello Zagros, è dovuta al movimento sotterraneo di questi duomi salini, di questi spessori di sale. E tra l'altro, lo vedremo brevemente alla fine, associati a questi duomi salini ci sono molte risorse di idrocarburi. Adesso veniamo al nostro Mediterraneo. I nostri colleghi geologi, già di un secolo fa circa, avevano riconosciuto queste rocce, qui siamo a Brisichella, siamo in Emilia Romagna, già a Romagna, bellissimi posti, rocce stratificate, se uno va vicino a vedere queste sono fatte di gesso, solfato di calcio, non c'è il cloruro di sodio, sono solo gessi. Queste formazioni gessose, la formazione gessoso-solfifera, che tra l'altro veniva usata anche per scopi estrattivi, è presente in realtà dalle zone intorno a Torino, giù giù giù, fino alla Sicilia. Quindi tutta la catena penninica è costellata di queste rocce di gesso, che sono del miocene superiore, quindi di circa 6 milioni, 5 milioni e mezzo d'anni fa, troviamo il Salgemma solo in Calabria, in Sicilia e un pochino nelle zone di Volterra, però principalmente c'è gesso. Quindi si sapeva, semplicemente andando in giro per le rocce, che da qualche parte il Mediterraneo di allora doveva aver generato la deposizione di gesso per evaporazione, ma non si aveva idea dell'entità della questione. Le ricerche fatte poi con l'arrivo della tecnologia in mare, e noi siamo nel bel mezzo di questa ricerca, hanno consentito di produrre questa carta che abbiamo fatto con il nostro gruppo assieme a tanti collaboratori. Vedete in colore le estensioni di Salgemma tuttora, e gessi anche, al di sotto dei fondali del Mediterraneo. Sono estensioni enormi, ce l'abbiamo in tutto il bacino balearico, quindi dal mare di Alboran fino alla Sardegna, un po' nel Tirreno, poco perché allora il Tirreno non era ancora formato interamente, lo Ionio è pieno e tutto il bacino di Levante. Abbiamo stimato che si tratta di circa un milione, ma forse anche di più, di chilometri cubi di sale, che sono là sotto, coperti da una coltre di fango argilla, spessa da un chilometro, diciamo fino a circa meno di 200 metri, una cosa del genere. Come facciamo a saperlo? Perché la ricerca, proprio quella ricerca di base, blue sky, chiamate non, che non prevede applicazioni prevedibili all'inizio, portata avanti dagli americani nell'immediato dopoguerra, hanno pensato di affittare una nave da perforazione dei tempi di allora, adesso si usano navi molto più moderne, e cominciavano ad andare a forare in giro per il Mediterraneo e negli anni, nel 1970 proprio, perforando nel Mediterraneo, hanno toccato sotto queste sabbie argille il gesso e il sale, quindi hanno provato che queste formazioni dell'Appennino erano presenti dappertutto. Poi noi, con la nostra nave, questa è la OGS Explora, e le tecniche ecografiche di studio del fondale, abbiamo incominciato a estrapolare le informazioni puntiforme dei pozzi e abbiamo fatto quella mappa che vedete prima, dove si vede una cosa del genere. Questa è un'ecografia, uno spaccato verticale del fondo del Mediterraneo, questo è il fondale, qui siamo a 2500 metri circa di profondità nel bacino balearico, e questi sono tutti gli strati, sono strati, pensate di vedere un'ecografia, voi vedete un'immagine, ovviamente non realistica, perché sono falsi colori, però indicano la stratificazione sotterranea. Questo, per dei motivi di deduzione, come se fossimo dei radiologi che interpretano una radiografia, questi sono i gessi inferiori della deposizione del sale, questo è il sal gemma, cioè questa roccia qui esatta, e questi in verde sono dei gessi superiori, quindi la sequenza non è rispettata integralmente. E guardate gli spessori, abbiamo circa due chilometri di sale lì nel bacino balearico. Ed è lo stesso identico sale che poi troviamo, come dicevo prima, nella miniera di Real Monte, queste sono fotografie che trovate, noi siamo andati a vederle, a studiarle, ma le trovate in internet, sono queste formazioni, ovviamente stratificate, stratificate, come è stratificato questo, ma tutte convolute, perché questo sale, come ho detto, si deforma come se fosse pasta di dentifricio, cercando di raggiungere la superficie terrestre. Allora, cosa succede? Perché c'è così tanto sale? Se facciamo un conto rapido, non vi voglio tediare con i conti, ma sappiamo le dimensioni del Mediterraneo, la superficie, la profondità media, che mediamente è 1500 metri, ma qua in blu abbiamo profondità di 4000 o anche 5000 metri. Allora, se noi evaporiamo il Mediterraneo in una unità di superficie, un metro quadrato, 1500 metri di acqua marina, 1.500.000 di chili di sale, di acqua, il 38 per 1000 sono 57.000 chili di sale per metro quadrato, con la densità del sal gemma, che è lui, 2.2, otteniamo 26 metri di sale. Quindi se noi adesso evaporiamo il Mediterraneo, non otteniamo 2 chilometri di sali, ne otteniamo 26 metri. Quindi vuol dire che, in un modo che non abbiamo ancora capito, il Mediterraneo si è trasformato in una salina, non artificiale, ma naturale, per cui continuava a entrare acqua marina da Gibilterra, e continuava a evaporare, in modo che, non sono stati cicli di evaporazione intera, però in qualche modo si è accumulato uno spessore di 2 chilometri, straordinario, circa il 10% della salinità dell'oceano globale, quindi tutto l'oceano si è addolcito del 10%, c'è chi dice che l'addolcimento degli oceani ha favorito la formazione di ghiaccio marino ai poli, e ha influito sull'evoluzione climatica. Nel mio cene, il lago Chad, che adesso è ridotto a pochi chilometri quadrati, era un lago enorme e drenava nel Mediterraneo, quindi il bilancio idrologico nel Mediterraneo era molto diverso, arrivavano sali sia dal mare, probabilmente, che dalle acque fluviali, finché si pensa che l'acqua è ritornata dentro il Mediterraneo, da Gibilterra, e qualcuno dice anche dal Mar Nero, e quindi si parla, e questo ha preso la stampa anche americana, negli anni 60, quando le prime teorie sono state formulate, delle famose cataratte di Gibilterra, che ovviamente non erano così, però qualcosa di simile deve essere successo, e qui l'abbiamo reso in un'altra animazione, di un lavoro che abbiamo pubblicato quest'anno stesso, quindi molto recente, che fa vedere la chiusura di Gibilterra, l'abbassamento del livello del mare, come l'abbiamo visto anche prima, la desertificazione del Mediterraneo, e poi l'evento della cosiddetta mega inondazione, mega flood, che secondo i nostri modelli, in circa due anni, ha riempito tutto il Mediterraneo, quindi è stato un evento, uno di quegli eventi catastrofici, della storia della Terra, che noi fatichiamo ad immaginare, in particolare abbiamo lavorato sulla vera e propria cascata, che doveva esserci a sud della Sicilia, perché dallo canale di Sicilia, che è molto alto, si va giù a 4.000 metri, e lì abbiamo trovato l'evidenza, di una delle cascate più grosse del pianeta, che ha generato un deposito in rosso, che è quello che abbiamo scoperto noi, con le nostre ricerche, questo è il deposito della grande cascata, che lo vedete qui, c'è una battimetria, vedete qua c'è noto, a sud della Sicilia, vedete questo, un canyon sottomarino, che ha la classica forma dei canyon, dove si formano delle cascate, parliamo di chilometri, questi sono 9 chilometri, quindi delle forme sottomarine gigantesche, questo è il deposito. Allora, andiamo rapidamente verso la fine, abbiamo una controversa scientifica, ve l'ho detto, ma non posso entrare nei dettagli, stiamo studiando questi depositi, anche per capire di quanto si è abbassato il livello del mare, e se l'acqua è arrivata principalmente dal mare Atlantico, o c'è stata un'invasione delle acque del Mar Nero, perché chi studia i depositi ha trovato delle faune, degli ostracodi, dei microfossili, che venivano indubbiamente dal Mar Nero, probabilmente sono successe le due cose assieme. Cosa rimane adesso di questo sale? Cioè è tutto sepolto, è tutto finito, o vediamo ancora qualcosa? Se andate a studiare la forma dei fondali del Mediterraneo, vedete delle forme strane, adesso qui non rende moltissimo, vedete queste gibbosità, qui c'è Creta, il mare Geo, sono tutte fatte dal, chiamiamolo, ribollire geologico del sale, che cerca di venire in superficie. Questo lo si vede, queste colline abissali del Mediterraneo, qua siamo a sud in Andalusia, a sud di Alicante, su per giù, tutte queste colline sono abissali, sono il sale che cerca di venire su. A Crotone, c'è una grossa, così chiamata, megafrana, molto lenta però, dove tutta la penisola di Crotone, dal bacino di Crotone, si sta muovendo verso mare, scivolando su questo sale. Anche questo è un lavoro di quest'anno, appena pubblicato, molto importante. Quindi, noi dobbiamo pensare che il fondale marino, che viene utilizzato sempre di più dall'uomo, per l'industria petrolifera, per mettere giù tubi, adesso non ci saranno più piattaforme di estrazione, tutto sarà sotto, questi oggetti hanno dimensione di un campo da calcio, questi sono pipeline, dovremmo mettere un sacco di strutture sul fondo del mare, per poter tenere al passo con le esigenze energetiche, di risorse minerali, delle telecomunicazioni, e dobbiamo sapere assolutamente, se questo fondale è stabile oppure no. Questi cosiddetti sinkholes, queste depressioni, sono tipicamente prodotte, dalla dissoluzione a terra del sale, che crea dei collassi. Qua a terra, in una zona popolata, qui ce n'è piena la terra di queste strutture, quindi dobbiamo sapere, su cosa appoggiano le nostre strutture sottomarine. Inoltre, qui mi addentro in un campo che non è il mio, ma i nostri colleghi sono attivissimi, associati ai depositi salini sottomarini, c'è una biosfera profonda, cioè ormai sappiamo che virus archea e anche, batteri archea e anche virus, sto concludendo, vivono fino a due chilometri di profondità, sotto la terra, sotto i fondali marini, c'è una vita sconosciuta, che può trarre beneficio, trarre energia dai depositi salini, perché lì c'è della materia organica, c'è l'ione solfato, c'è la solfato riduzione, ed è una componente della nostra biosfera assolutamente sconosciuta. Quindi noi andiamo, quello che vogliamo fare, andare a perforare questi depositi giù, a due chilometri di profondità, portare su i batteri, e capire che cosa succede a livello di vita batterica, nelle profondità dei nostri mari. Quindi vi lascio con questa diapositiva, dove la nave da perforazione, primordiale che vi ho fatto vedere, adesso è questa, che è una nave all'avanguardia, esiste un progetto internazionale, un po' come quello della NASA, che esplora lo spazio esterno, questo progetto IODP, che si chiama Integrated Ocean Discovery Program, ha lo scopo di invece perforare l'interno della Terra a mare. E noi, se riusciamo, fra due o tre anni, avremo questa nave nel Mediterraneo, per andare veramente ad attraversare queste formazioni, e capire come sono andate le cose. Tutto quello che vi ho detto fino adesso, dopo tutto, sono delle teorie in cerca di validazione. Quindi con questo vi ringrazio, spero di non avervi fatto perdere tempo, e se avete qualche domanda sono felice di rispondere. Un grande applauso.